Pensate che la navigazione in internet avvenga principalmente dal PC? Allora vi precludete il vero potenziale della rete che si esprime al meglio attraverso smartphone e tablet. Perché privarsi ad esempio della possibilità di usufruire della propria assicurazione auto, non solo in casa o in ufficio, ma in ogni istante? Da oggi è possibile grazie a... questo! Oggetto di grande curiosità in America, ai service media hanno accolto l'infinito potenziale e i suoi numerosi vantaggi. Il primo è quello di averlo stampato sul portabollo auto. In qualsiasi luogo ci si trovi, per qualsiasi necessità, basta inquadrarlo con il proprio smartphone o tablet per avere a disposizione un ambiente che fornisce tutto ciò che serve in un touch. Perché ad esempio privarsi della comodità di individuare in pochi secondi l'officina convenzionata più vicina in caso di incidente per una valutazione del danno. E se non ci sono officine né dintorni, ecco lo strumento più rivoluzionario. La compilazione e l'invio del CAI in tempo reale. Luogo, data e ora del sinistro sono inserite in automatico. Non c'è che da compilare i dati, scattare e allegare le foto dell'auto direttamente dal telefonino, inviare. Ed ecco in pochi secondi il preventivo in un touch. Il secondo vantaggio è la visibilità. Stampato lì, ben visibile, sul portabollo, attirerà la curiosità di chiunque salga in auto, attivando la più proficua forma di pubblicità, il passaparola. Un terzo vantaggio è l'abbattimento totale di qualsiasi costo di stampa. Attraverso la sezione Le mie polizze, il cliente avrà a disposizione tutta la propria documentazione, che a differenza di quella cartacea è immediatamente consultabile, inviabile via mail, ma soprattutto aggiornata in tempo reale ogni qualvolta il telefonino è online. Questo comporta meno costo di stampa, meno materiale cartaceo, meno spostamenti, in definitiva meno impatto ambientale. E per ogni evenienza tutti i numeri d'emergenza sono a portata di touch. È inoltre possibile archiviare tutti i dati relativi alle proprie polizze per averli sempre con sé, per non parlare delle notifiche che avvisano il cliente delle scadenze di pagamento, evitando l'inutile fastidio di appuntare date ovunque o accorgersi troppo tardi dell'assicurazione scaduta. Inoltre, attraverso prodotti HD, il cliente potrà essere aggiornato su tutte le novità per non perdere le offerte più adatte a lui. E per qualsiasi necessità, tramite il doc sottostante, accesso alle info dell'agenzia, all'invio dell'e-mail, al numero clienti e al sito web, in on-touch. Infine, il quarto vantaggio del codice QR è la pressoché infinita possibilità di utilizzo. A differenza di una semplice applicazione per iPhone, ogni codice diventa in pratica una nuova impronta digitale del cliente e può essere infatti associato a contenuti sempre diversi e utilizzato nei modi più svariati, dal merchandising alla pubblicità. E allora perché privarsi di tutte queste opportunità? La web app HD e il codice QR sono il futuro. HD Assicurazioni, al tuo fianco ogni giorno, in on-touch.